Consegnati mercoledì sera i lavori per il secondo piano della nuova zona del cimitero. Tutta la parte era inibita al pubblico per ragioni di sicurezza e per la mancanza del collaudo dell'ascensore. Ora tutto è tornato alla normalità, sono stati raggiunti parametri di sicurezza che consentono l'accesso degli utenti. La situazione complessiva dovrebbe quindi tornare alla normalità vista anche la più celere tumulazione delle salme, che attualmente stazionano per tempi eccessivamente lunghi nella Cappelletta e in altre zone del cimitero.